Oggi dovevamo cominciare primo testa non dicesi, però il Signore mi ha messo, anzi secondo testa non dicesi, il primo testa non dicesi l'abbiamo già finito, non vogliamo ricominciare. Il Signore mi ha messo a cuore veramente che, visto anche che noi siamo veramente per tante cose in partenza, con la scuola, con gli impegni autunnali della Chiesa, anche in famiglia, abbiamo iscritto la sua prima lezione di musica questa settimana. Ognuno di noi ha degli impegni maggiori, chi doveva rientrare dalle ferie siamo quasi tutti rientrati. E quindi stamattina vorrei portarvi a riflettere sull'importanza di quello che Dio ti sta chiamando a fare, quello che Dio sta chiamando tutti noi a fare, e anche uno dei pericoli maggiori che noi affronteremo in questo nuovo anno scolastico, se vogliamo, in questo autunno, in questo futuro anno. Tante cose cambieranno, qualcuno spera di essere promosso e andare a finire le scuole, qualcuno di voi spera in un nuovo lavoro, qualcuno di voi spera che possano cambiare delle situazioni in famiglia. Ci sono tante cose nuove e ci sono dei pericoli sulla strada per noi stamattina, di cui vorrei parlare. Vi voglio dire una cosa, che per arrivare alla fine di quest'anno scolastico non basterà il talento. Per arrivare a finire bene quest'anno non basterà avere buone idee o buoni propositi, non basterà nemmeno avere un piano preciso su quello che tu pensi di fare. Abbiamo tutti conosciuto delle persone che sulla carta avevano tutto per riuscire nella vita, ma non sono arrivati al traguardo. Devo confessare che nel mio studio della musica avevo molto più talento che voglia, e quindi grazie ai miei genitori che praticamente mi costringevano a studiare lo strumento tutti i giorni. Sono riuscito anche a diplomarmi, ma senza quello stimolo esteriore io non ci riuscivo. E non basta avere, tu puoi conoscere delle persone che sono dei grandi musicisti o dei grandi atleti, possono fare grandi cose, ma arrivano fino a un certo punto, perché per arrivare alla fine ci vogliono due cose che sono collegate, di cui vorrei parlare stamattina, che sono la diligenza e la fedeltà. Quando ho guardato il dizionario, ho fatto una piccola ricerca sulla grande autorità mondiale che si chiama Google, ho trovato che queste parole sono talmente collegate che nel diritto si parla del lavoro di diligenza e fedeltà, come due concetti che si legano insieme. La diligenza, dice il vocabolario, è la cura attenta e scrupolosa, premurosa esattezza nell'operare. Invece la fedeltà è il rispetto delle promesse e dei patti. Vedete come quelle due cose sono talmente legate che molti messaggi, ho visto, molti passioni non riescono nemmeno a distinguere, neanche io vorrei distinguere tanto, vorrei proprio mettere queste due parole stamattina insieme. La diligenza e la fedeltà. Sapete, oggi nel mondo c'è una grande crisi di diligenza e fedeltà, soprattutto nelle cose che contano. Abbiamo tutti visto gli effetti della mancanza di diligenza e fedeltà dalle cose piccoli alle cose grandi. Io per uno non amo annaffiare le piante e per far vivere le piante, soprattutto l'estate, soprattutto il basilico, che è l'unica pianta che ho ancora in vita, ci vuole diligenza e ci vuole fedeltà. Tutti noi, beh, non tutti, qualcuno è veramente bravo a scuola, ma molti di noi abbiamo avuto degli esami finiti male, che sarebbero finiti bene con un po' più di diligenza e fedeltà. Abbiamo avuto delle delusioni nello sport, è mancata un po' di diligenza e fedeltà nell'impegno sportivo. E poi ci sono promesse non adempiute, non adempiute a noi stessi, non adempiute agli altri. Siamo tutti vittime di persone che non hanno mantenuto fede alle promesse fatte o che hanno solo mantenuto le proprie promesse a metà. Pensate a promesse di politici, purtroppo esistono anche le barzellette sui politici, quando sai che un politico sta dicendo una bugia, quando sta parlando. Guardate che ci sono veramente dei politici seri là fuori, però ci sono anche persone che non mantengono le promesse. Matrimoni falliti. Quanti bambini hanno una visione così brutta del matrimonio perché hanno avuto promesse non mantenute da parte dei genitori, i genitori assenti. Sì, sì, sabato andiamo al parco. Eh, mi spiace, ho troppo da fare o c'ho la partita briscola, non ci riesco. Promesse di lavoro, oppure lavoro c'è ma lo stipendio no. Sì, sì, ti pago venerdì. Venerdì non viene il lavoro, è il capo. Anche fratelli in Cristo ci deludiamo tra di noi, la verità. Magari un fratello ti ha promesso un aiuto, un aiuto, che ne so, sabato vengo a darti una mano a fare il trasloco. Sabato stai lì, non c'è nessuno. Forse, non ti preoccupare, ti incoraggerò io. Chi si è visto, si è visto. Succede. Succede e la verità è, se siamo onesti, che i primi a essere colpevoli siamo noi stessi. Non dobbiamo guardare prima gli altri, ma guardare il fatto che noi siamo colpevoli di questo. Vi voglio dare ancora una notizia più brutta. Proverbi 26, 20, versetto 6. Non ci consola su questo fatto. È una domanda un po' aperta. Dice, molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Paolo stesso viveva con questa tensione. Oggi dovete essere veloci con i versetti. Quindi io l'ho messo tutti qua sui miei appunti. Nella mia evangelizzazione, in qualche modo, tra giovedì e oggi, ho smarrito la mia Bibbia. Però c'è la Bibbia online e ho scaricato tutti i versetti. Non vi preoccupate, non faccio un messaggio dal Corriere della Sera. Primo Corinzi 9, versetti 24-27. Apostolo Paolo dice questo. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti. Ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli che lo fanno per ricevere una corona, quelli lo fanno per una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. E questa è la parte chiave che ci fa pensare. Perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Paolo stesso viveva con questa tensione di finire quello che lui aveva cominciato. Allora la domanda che mi sono fatto, perché a dire la verità questo messaggio serve prima a me, poi a voi. È impossibile rimanere diligenti fino alla fine? Che speranza c'è per noi comuni mortali se il grande apostolo Paolo viveva con questa tensione nella sua vita? E la buona notizia è che Dio ci dice di sì. C'è speranza per noi stamattina. Oggi dalla parola di Dio vedremo cinque motivi per continuare a essere diligenti e fedeli. Notate che ho messo continuare a essere diligenti e fedeli sembra quasi una ripetizione, ma è talmente importante arrivare alla fine. Il primo punto che vi vorrei dare, e adesso vedremo dei versetti, è che Dio ci modella come essere diligenti e fedeli. Guardate con me il primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 23 e 24. Dio ci modella come essere diligenti e fedeli. Dice questo. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E qui è la chiave. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Anche nel Vecchio Testamento se ne parla, in Deuteronomio, capitolo 7, versetto 9. Vi confesso che per questo messaggio c'era l'imbarazzo della scelta su questo tema. È un tema che Dio ovviamente ci ha fatto vedere più volte. In Deuteronomio, capitolo 7, versetto 9, dice Riconosci dunque che Yahweh, o il Signore, il tuo Dio, è Dio. Il Dio fedele. Che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Pensate che Dio è così fedele che senza la sua potenza che ci sostiene in vita, se Lui per un attimo si potesse dimenticare di noi, noi non esisteremo più. Ma Dio è così fedele che anche con tutti i nostri difetti, con tutto il nostro peccato, Lui ci mantiene in vita. La cosa meravigliosa è che la parola di Dio parla anche della Trinità all'opera, nella fedeltà. Per esempio, Dio Padre è fedele, in 1 Corinti 1, versetto 9, dice, Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del figlio suo, Gesù Cristo, nostro Signore. Poi, vediamo anche che Cristo è fedele. È fedele come Salvatore. Filippesi 2, 6 a 8, dice, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Pensate se Cristo non fosse stato fedele nell'arrivare alla meta della sua morte per noi. E poi, anche come insomma sacerdote, abbiamo studiato ebrei, ma guardate anche Romani 8, 34, dice, Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, è ancora più risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Questo scritto duemila anni fa ed è ancora vero oggi. Ebrei 2, versetto 17, dice, Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele suo ommo sacerdote. Abbiamo visto che il padre è fedele, abbiamo visto che il figlio, Gesù Cristo, è fedele e vediamo anche che lo Spirito, lo Spirito Santo, è fedele. Romani 8, 27, dice, Colui che esamine i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i voleri di Dio. E poi in secondo Corinzi, 1, 22, vado veloce perché voglio proprio darvi una testa piena di versetti su questo tema, per convincervi che è un tema importante per Dio. Egli pure, cioè Dio padre, ci ha segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dio è fedele, ce lo modella, ce lo dimostra e Dio ci chiama pure a essere diligenti e fedeli perché siamo Suoi figli. Ma c'è un altro motivo che Dio dà valore a tutta la nostra vita. Sapete che siamo tentati di pensare che Dio interessano solo alcune parti della nostra vita, solo alcune cose per cui dobbiamo pregare, solo per alcune cose che dobbiamo fare richieste in preghiera o parlare con i credenti, ci sono cose spirituali e non spirituali. E il secondo punto invece è questo, che Dio considera tutte le parti della nostra vita importanti. umanamente noi teniamo a voler suddividere la nostra vita in pezzi, in compartimenti. Ci sono cose importanti, poi le cose più relax, più di intrattenimento. Ci sono le cose spirituali e le cose non spirituali. C'è la famiglia, poi c'è il lavoro, sono due cose separate. Ma per Dio non è così. Ogni parte della nostra vita ha valore ai suoi occhi. Tutto ciò che siamo e facciamo ha un valore spirituale. E quindi vorrei darvi degli esempi qua di questo fatto. Nella nostra vita personale la Bibbia ci chiama a prendere cura di noi stessi. Per esempio nella preghiera Efesini 6, versetto 18 dice questo pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi. Dobbiamo essere i diligenti nella nostra preghiera. Poi anche nello studio nell'applicazione della parola di Dio siamo tentati di pensare che se noi studiamo la Bibbia automaticamente cresciamo. La crescita avviene quando noi prendiamo la parola di Dio e l'applichiamo nella nostra vita. Vorrei darvi tre versetti su questo che conoscerete forse. Giosuè 1,8 dice questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi ho scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai. Questo all'inizio del Vecchio Testamento alla fine del Vecchio Testamento in Primo Croniche 22,13 dice allora prospererai se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso non temere e non ti sgomentare. Sembra di sentire di nuovo le parole dette nel libro di Giosuè. E poi in Salmi Salmi 128 1 e 2 dice Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie allora mangerai della fatica delle tue mani sarai felice e prospererai. Un'altra parte della nostra vita dove noi dobbiamo essere disciplinati è nel tempo. Efesini 5 7,15-16 dice guardate dunque con diligenza a come vi comportate non da stolti ma da saggi ricoperando che cosa? Il tempo perché i giorni sono malvagi. Ancora 2 nella cura del proprio corpo 1 Corinthians 3 16 e 17 non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? se uno guasta il Tempio di Dio Dio guasterà a lui poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Dobbiamo essere disciplinati dobbiamo essere diligenti nella cura del nostro corpo e l'ultima è nella sottomissione a Dio nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Giacomo 4,7 dice sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi tutti questi esempi tutti questi versetti solo per dirvi quanto è importante la nostra vita personale ma oltre alla vita personale c'è la vita familiare c'è il modo in cui noi onoriamo i nostri genitori Efesini 6 versetti 2 e 13 onora tuo padre e tua madre questo è il primo comandamento compromessa affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra vuoi essere felice? comincia onorando i tuoi genitori dice la parola di Dio nel proprio matrimonio c'è tutto il libro di Efesini che ha molti di questi temi che vedremo oggi ma non andremo a leggerlo perché è talmente lungo è un messaggio a parte Efesini 5 da 22 a 33 che parla dei ruoli del marito della moglie ma quanto è importante essere diligenti e fedeli nel proprio matrimonio infatti se guardi il dizionario la definizione numero uno che è più comune della fedeltà è proprio a livello matrimoniale purtroppo la verità è che nel mondo oggi è tutt'altro che fedeltà e diligenza che noi troviamo nei nostri matrimoni l'Istat dice che i matrimoni più recenti durano di meno confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005 che sono già dieci anni fa le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate passando da 4,5 a 9,3 per chi ama i numeri è una situazione grave questa non c'è più diligenza nei matrimoni e poi come genitori abbiamo bisogno di diligenza Efesini 6,4 dice voi padri non irritate i vostri figli ma allevateli nella disciplina e nell'istituzione del signore non mi considero un esperto nell'essere genitore mi sento un genitore è ancora abbastanza disperato disperatamente bisogno del signore e di perseveranza quando Dio ci chiama anche a disciplinare a guidare a istruire invece che a lasciar fare quando siamo tentati la nostra stanchezza oltre alla famiglia c'è anche il lavoro nella Bibbia le istruzioni migliori che abbiamo sul lavoro si trovano nel rapporto tra schiavi e padroni a volte se lavoriamo per qualcuno potremmo anche sentirci un po' schiavi abbiamo il diritto noi di andare via però se il lavoro serve è difficile che possiamo andare via Efesini 6,5-9 dice servi ubbidita ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore come a Cristo non servendo per essere visti come per piacere agli uomini ma come servi di Cristo fate la volontà di Dio di buon animo e tutto il testo continua e poi c'è anche riferito ai padroni perché ci sono anche i datori di lavoro agite allo stesso modo versi di loro astenendovi dalle minacce sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo e presso di Lui non c'è favoritismo la diligenza alla fedeltà del lavoro è fondamentale per ultimo ma non per importanza perché sono tutti importanti abbiamo visto Romani 12 da 4-8 leggiamo un attimo insieme e capirete di cosa sta parlando Romani 12 da 4-8 ve l'ho letto che oggi dovreste essere veloci se volete faremo faremo un corso di lettura di trovare velocemente i versetti se non l'avete fatto dalla scuola dominicale dei bambini molto molto importante questo corso Romani 12 da 4-8 dice poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro di cosa sta parlando sta parlando del nostro ministero del rapporto con i fratelli nella chiesa avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa se abbiamo dono di profezia profetizziamo conformemente alla fede se di ministero attendiamo al ministero se di insegnamento all'insegnare se di esortazione all'esortare chi dà dia con semplicità chi presiede lo faccia con diligenza chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia diligenza nella nostra chiamata siamo tutti stati tentati prima o poi di lasciare un ministero che non amavamo prima che finisse il termine necessario del nostro impegno ok adesso arriviamo al terzo motivo per cui è importante oggi abbiamo visto la fedeltà di Dio abbiamo visto la diligenza di Dio poi abbiamo anche visto che Dio dà valore a tutta la nostra vita e adesso veramente vi vorrei dare un motivo molto molto pratico abbiamo tutti dovuto sopportare un genitore un parente un insegnante qualcuno che ci ha detto di fare una cosa ma senza spiegarci come farlo beh con Dio le cose sono differenti Dio ci spiega esattamente come noi dobbiamo fare infatti il punto numero tre è che Dio ci offre buoni consigli dalla sua parola su come essere diligenti e fedeli vorrei dare alcuni ma sicuramente ne troverete altri nella parola di Dio primo consiglio che ho trovato nella parola di Dio è di dire di no a quasi tutto come si può fare in chiesa prima di tutto non stiamo parlando solo della chiesa ma in generale ma si a volte anche in chiesa dobbiamo sapere dire di no ebrei 12.1 dice anche noi dunque poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni dice deponiamo ogni peso e il peccato è che così facilmente ci avvolgi e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta devi dire di no a qualcosa anche di buono a volte può essere un peso forse non è un peccato ma forse è un peso devi dire di no a qualcosa per dire di sì a qualcos'altro poi c'è anche l'Apostolo Paolo che un pochino prendendo in giro i corinzi in primo corinzi 10.23 uno dei versetti forse più citati male della Bibbia dice ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile ogni cosa è lecita ma non ogni cosa edifica qui Paolo non sta dicendo che ogni cosa è lecita erano i corinzi che dicevano che ogni cosa è lecita noi possiamo fare tutto quello che ci pare lui dice ah sì anche se fosse non ogni cosa edifica quindi prima di decidere di fare una cosa dobbiamo chiederci una cosa che edifica una cosa che è un mattone che costruisce la casa di Dio la mia vita spirituale oppure è una cosa che distrugge l'opera di Dio in me e poi c'è un altro versetto sicuramente da citare primo corinzi 10 versetto 31 per chi fosse stato veloce stavolta potete guardare sulla stessa pagina sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualche altra cosa fate tutto per quale motivo per la gloria di Dio ogni cosa che noi facciamo deve portare gloria a Dio ok quindi primo consiglio che ho trovato e ce ne sono tanti altri sono solo alcuni che ho trovato lettera B scegliere bene la meta Filippesi 3.14 dice corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù noi abbiamo una meta Dio ci ha dato una meta tutte le altre mete sono imitazioni di quella meta importante che Dio ci dà avrete sentito sicuramente l'espressione ti stai arrampicando assiduamente sulla scala della vita ma l'hai appoggiata al muro sbagliato vi garantisco che quando arriveremo in cielo vedremo che tante cose che noi abbiamo fatto erano ricerche erano impegni che ci portavano nella direzione sbagliata Dio vuole darci la sicurezza di andare verso le mete migliori avete sentito sicuramente il motto della Nike in inglese è just do it sapete cosa vuol dire just do it fallo e basta è vero questo è un metodo è un motto che mi sto prendendo a cuore ultimamente perché è un motto biblico invece di farci tanti discorsi muoviti fallo e basta quando lavoravo in America ho lavorato anche su una chiesa dove c'era un signore un tecnico che lavorava con un furgone noi facciamo l'evangelizzazione con i ghiaccioli che ci crediate o no andavamo sulle zone più povere della città e regalavamo i ghiaccioli ai bambini e gli davamo anche una cosa con i versetti e così un giorno ci siamo messi a mettere l'altoparlante e ho imparato una cosa importante ha detto misura due volte e taglia una volta per chi fosse un elettricista o chi fosse un carpentiere chi fosse un muratore misura due volte e taglia una volta che c'entra? quando noi decidiamo di fare una cosa pensiamoci bene e poi prendiamo l'impegno il rischio è che prendiamo tanti impegni che veramente alla fine ci rimpiangeremo proverbi 6 lettra C è agire piuttosto che sonnecchiare e lì c'entrava il just do it l'ho saltato un po' avanti però era tanto bello che lo volevo leggere proverbi 6 10 a 11 dice dormire un po' sonnecchiare un po' incrociare un po' le mani per riposare la tua povertà verrà come un ladro la tua miseria come un uomo armato qualcuno di voi ha avuto questa brutta esperienza di vedere ladri in casa forse qualcuno di voi è stato anche rapinato non lo so ma dice che se noi sprechiamo il nostro tempo se noi non agiamo sulle cose importanti è come qualcuno che viene e che ti porta via le cose ho letto su un libro un buon consiglio che si chiama La regola dei due minuti se un'azione può essere fatta in meno di due minuti falla subito io ho la tendenza di fare liste di cose da fare però a volte per esempio io odio le telefonate qualcuno di voi lo sa non amo fare telefonate ultimamente Mero di mi ha detto dovresti chiamare la scuola di musica per no ok regola di due minuti se lo faccio adesso non ci devo pensare più ok ho preso il telefono ho chiamato quante volte tante cose che noi potremmo fare sbrigarcele in meno di due minuti le lasciamo e così si accumula e la nostra diligenza è sempre meno costante la nostra fedeltà va a mancare ok abbiamo visto dire di no abbiamo visto scegliere bene la meta poi agire piuttosto che sonnecchiare la quarta è smettere di inventare scuse volete sentire una delle scuse più belle scritte nella Bibbia proverbi 22 versetto 13 il pigro dice là fuori c'è un leone sarà ucciso per strada capite una cosa che in Israele c'erano i leoni non è come qua ma il pigro pensa ai problemi non pensa alle soluzioni se sei uno che inventa le scuse prenditi responsabilità pensaci un attimo prima di rispondere con quella con la scusa che poi è campata in aria le tre ancora un consiglio spero che vi sono utili questi come lo sono stati per me imparare dagli sbagli ok queste cose sono talmente ovvie dici vero forse per te sono ovvie per me non lo sono perché io quando faccio uno sbaglio dico ah non lo farò mai più non parlerò mai più con quella persona perché mi ha guardato male non studierò mai più uno strumento perché il professore è cattivo non giocherò più nessuno sport perché mi sono fatto male o perché ho sbagliato quel gol proverbi 24 16 dice perché il giusto cade sette volte e si rialza ma gli empi sono travolti dalla sventura c'è la grande benedizione di Dio su chi segue Dio che il giusto si rialza e ti devi rialzare davanti alla difficoltà vorrei citare tre cose nella Bibbia però sono forti che vi piaceranno Churchill ha detto il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere entusiasmo se tu volevi cercare la chiesa dei perfetti hai sbagliato chiesa siamo una chiesa piena di peccatori ma siamo anche una chiesa di persone che si vogliono santificare di più di giorno in giorno di essere più come Cristo adesso ve ne cito uno e dovete indovinare di chi è va bene? dice non ho fallito mille volte cercando di inventare la lampadina la lampadina era un'invenzione con mille passi chi l'ha detto? Edison e poi sentite questo ho mancato più di 9000 tiri nella mia carriera ho perso quasi 300 partite 26 volte mi hanno affidato il tiro vincente del match e ho mancato il tiro ho fallito volta dopo volta nella mia vita ecco perché ho avuto successo lo sapete chi l'ha detto? Michael Jordan benissimo abbiamo delle persone informate qua se vogliamo spingerci avanti per il Signore dovremo anche affrontare il fatto che sbaglieremo vi dico che se se voi uomini qualcuno di voi desidera essere pastore un giorno vi prometto che devi imparare anche a sbagliare e a cercare di raccogliere pezzi quando sbagli ce ne ho ancora due e queste sono molto molto importanti lettera F non credere alle bugie di Satana perché il mondo è ridotto nel caos di oggi? perché Adamo e Eva hanno creduto alle bugie di Satana secondo Corinzi 2.11 dice affinché non siamo raggirati da Satana infatti non ignoriamo le sue macchinazioni secondo Corinzi 11.14 dice non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce se voi avete l'impressione che Satana ce l'ha con voi avete ragione la Bibbia lo dice le bugie ci spingono a peccare anche abbandonando la visione di Dio per la nostra vita pensate alle bugie che uno si racconta per arrivare all'adulterio l'imbroglio alla fine nessuno mi guarda all'odio le bugie che ci diciamo per odiare una persona le bugie sono paralizzanti sono cose che ci limitano bugie su noi stessi ma quella persona non gli parlerò al Signore perché tanto tanto non sono capace oppure la bugia che possiamo dire sugli altri non parlerò con quella persona del Signore perché tanto non mi ascolterà sono tante le bugie che noi ci diciamo su noi stessi e sugli altri che ci limitano da quello che Dio ci sta chiamando a fare l'ultimo consiglio che vi do il più grande consiglio di tutti è fidarsi è fidarsi di Dio la nostra mancanza di diligenza e fedeltà mostra quello che noi crediamo di Dio ci avete mai pensato quando tu ti arrendi quando tu lasci stare quando non sei diligente quando tu non sei fedele in quello che Dio ti ha chiamato a fare che sia il matrimonio che sia essere genitore che sia lavorare che sia lavorare nella chiesa qualsiasi cosa quando tu ti arrendi significa che non ti fidi di Dio mostra che noi crediamo che la nostra perseveranza non ne vale la pena mostra che noi non crediamo che non c'è niente al traguardo è vero? se Dio ha detto che c'è qualcosa al traguardo no non c'è niente al traguardo non devo resistere fino alla fine se c'è un libro sulla perseveranza nella Bibbia secondo voi qual è? quiz uno che abbiamo studiato ebrei ebrei è un libro tutto sulla perseveranza vi ricordate questi credenti che si chiedevano voglio andare avanti con le persecuzioni con le difficoltà vale la pena seguire Cristo? ebrei 2 10 a 13 dice infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose cioè Gesù rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza anzi del padre che riguarda il figlio sia colui che si santifica sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea canterò la tua lode e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui e inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati dobbiamo fidarci di Dio Gesù è venuto sulla terra per mostrarci la fiducia che aveva che il padre l'avrebbe sostenuto anche nella sua morte abbiamo ancora due motivi che sono collegati vedrete vi prometto che sono più brevi ma non meno importanti il quarto motivo per essere diligenti e fedeli è il seguente numero quattro Dio ci avverte del costo di non essere diligenti e fedeli famiglie rovinate vedete proverbi 29 versetto 15 parla di questo le famiglie rovinate rimpianti tutti noi viviamo con qualche rimpianto ma se noi non perseveriamo vi garantisco che i rimpianti saranno maggiori se solo essendo musicista non vi dico quante volte qualcuno è venuto da me e se solo avesse continuato a studiare quello strumento qualche anno in più qualcuno che voleva essere missionario e poi si è reso davanti al volere dei genitori o le difficoltà se solo avessi tenuto fede a questa promessa a Dio se solo avessi dedicato il mio tempo ai miei figli se solo avessi cercato di risolvere i problemi con mia moglie e mio marito Galati 6 9 dice non ci scoraggiamo di fare il bene perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo Proverbi 20 versetto 4 dice il pigro non ara a causa del freddo alla raccolta verrà a cercare ma non ci sarà nulla e questo ci porta al terzo motivo il terzo costo la fame vedete che Dio non parla solo di cose spirituali parla di cose fisiche dice se non sei diligente avrai fame Proverbi 19 15 dice la verga e la riprensione danno saggezza ecco qui forse ho sbagliato ho fatto uno scambio ma leggiamo lo stesso il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre ho scambiato quei due versetti ecco perché non mi quadrava abbiamo visto il versetto già sulla fame e guardiamo ancora uno Dio ci avverte del costo di non essere dirigenti e fedeli ci sarà un giudizio Ecclesiaste 12 versetto 1 dice rallegrati pure o giovane durante la tua adolescenza questo proprio rivolto ai giovani e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi fai pure quello che vuoi dice ma non proprio ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio se noi smettiamo di perseverare per le cose importanti avremo un grande giudizio davanti a Dio Matteo 24 46 e 51 è una storia di Gesù che vale la pena ripetere dice beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi a mangiare a bere con gli ubriaconi il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta nell'ora che non sa e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti la sarà il pianto e lo stridor dei denti un po' come un'interrogazione a sorpresa a scuola un momento per studiare non è quando ci sono gli esami ma volta per volta giorno per giorno perché non sai mai quando arriva quella interrogazione c'era un professore italiano che diceva sempre i volontari sono morti in guerra tutto questo per dire io non chiamo volontari perché so che studiate solo quando siete volontari se no mi voglio lasciare adesso dopo questa cosa pesante questo avvertimento c'è un ultimo motivo per essere diligenti e fedeli numero 5 Dio ci svela le benedizioni di essere diligenti e fedeli Dio promette delle buone cose a coloro che sono diligenti e fedeli proverbi 28 20 dice l'uomo fedele sarà colmato di benedizioni ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito quanto ci dà fastidio quando qualcuno la farà quando la fa franca magari non ha studiato ha copiato e c'ha il bel voto o al lavoro prende tutte le scorciatoie eppure è quello che riesce a salire e avere successo nel lavoro ma vi prometto che è temporaneo è una promessa qui di Dio Matteo 25 21 dice il suo padrone gli disse va bene servo buono e fedele sei stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del Signore questi sono i versetti che dobbiamo ripeterci quando siamo stanchi quando vogliamo arrenderci quando forse questo è un po' meno spirituale ma quando non vogliamo lavarci i denti la sera o il filo interdentale tutte le cose della vita Dio si interessa di tutte le nostre cose capite che dobbiamo essere diligenti in tutto la promessa di Cristo è anche una grande benedizione qual è la promessa di Cristo di Matteo 28 20 ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente la promessa di Cristo è che sarà con noi che è con noi ora e sempre non ci abbandona mai quando sei scoraggiato dei risultati magari hai lavorato anche duro e sei pronto per arrenderti ricordati che Cristo è qui con te che ti sprona ad andare avanti e che ti ricorda che Lui è qui con te c'è un altro versetto fondamentale su questo concetto perché forse dopo tutto questo messaggio tu pensi che è una cosa solo tua che tu devi fare ma guardate quest'altro versetto proverbi 21 31 mi sembra che c'è anche nei salmi questo versetto il cavallo è pronto per il giorno della battaglia ma la vittoria appartiene al Signore la vittoria è nelle mani di Dio questo ci conforta quando noi andiamo a evangelizzare se c'è nel campo diciamo spirituale una delle difficoltà più grandi dove ci possiamo scoraggiare e nel testimoniare ultimamente Dio mi sta dando tante opportunità di parlare di Lui però nessuno ancora ha creduto però dobbiamo andare avanti dobbiamo spingerci la vittoria è nelle mani di Dio non nelle nostre mani grazie a Dio abbiamo questa certezza e poi guardate un altro versetto l'ultimo l'ultima benedizione di quelle che io vi presento stamattina primo corinzi 15 versetto 58 dice perciò fratelli miei carissimi state saldi incorollabili sempre abbondanti nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore la fatica non è vana ci sono giorni arriviamo alla fine della giornata come genitori come lavoratori come mariti o mogli come servi nella chiesa magari hai insegnato una di quelle belle lezioni di scuola domenicale alla fine della lezione hai detto ditemi una cosa che avete imparato aspettando che risponde qualcun altro Dio dice che la nostra fatica non è vana non ti arrendere non è ancora detto quello che il frutto che ci sarà abbiamo visto proprio questo messaggio da parte di mio padre la nostra diligente la nostra fedeltà sono messe a dura prova nella vita stavo cercando di fare calcoli ma non sono stato molto diligente nel mio studio della matematica ma senza fare un calcolo matematico sono abbastanza sicuro che sono più le cose che ho smesso nella vita di quelle che ho continuato non so voi sono tante di quelle cose che ci siamo arresi soprattutto per i giovani magari sotto la guisa di sperimentare nuove cose e di provare tante cose quanto è importante la nostra diligenza in quello che Dio ci chiama a fare però vi dico che non è soltanto per i giorni perché la diligenza non ha età per questo che Paolo poteva dire verso la fine della sua vita che voleva correre fino alla fine solo sapendo che aveva la pena di morte davanti poteva dire ho corso la buona corso ho combattuto il buon combattimento Salmo 50 versetto 14 dice come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore ci sono versetti che dicono non fare troppe promesse ma altrettanti versetti che dicono le promesse che fai mantienile non è una cosa leggera quando noi facciamo una promessa a Dio e non la manteniamo Gesù ci insegna in Luca 16 versetto 10 chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi se tu vuoi vedere chi sono i futuri leader della chiesa li vedrai pulendo la chiesa li vedrai che raccolgono il cartaceo quando nessuno gliel'ha detto li vedrai quando offrono di dare una mano quando nessuno sta guardando nelle piccole cose si vedono le grandi cose come i suoi figli la nostra fedeltà e diligenza riflettono quella che è la nostra chiamata da parte di Dio pensate alla chiamata di Nemia abbiamo concluso questo studio da poco e una delle frasi più belle di Nemia era io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere saremo tentati avremo più opportunità di quelle che possiamo contare per abbandonare qualcosa per cercare qualcos'altro ma noi non possiamo scendere dal lavoro importante che Dio ci sta chiamando a fare 1 Corinthians 4.2 dice del resto quello che si richiede agli amministratori che ognuno di noi è un amministratore per Dio delle cose che Dio ci ha affidato dice quel che si richiede agli amministratori che ciascuno sia trovato fedele quanto valore ha la diligenza e la fedeltà davanti agli occhi di Dio si può mettere un prezzo a questa cosa si può dare un prezzo forse dopo un messaggio così come me che ho lottato con questi pensieri per questi giorni dirai che sia impossibile riuscirci ad essere diligenti in tutte le cose che Dio ti ha affidato e ti dirò che hai ragione hai ragione a metà è impossibile riuscirci da soli Galati 5.22 ci ricorda che non siamo da soli dice il frutto dello spirito invece è amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo lo spirito di santo vive in noi non siamo mai soli e anche la fedeltà fa parte del frutto che lui opera nelle nostre vite c'è un'ultima raccomandazione che vi vorrei dare da proverbi 24 10 quando sei proprio al limite quando sei stanco quando hai dolore quando sei nel letto di ospedale come mio padre questa settimana c'è un versetto che ti può aiutare dice proverbi 24 10 se ti scoraggi nel giorno dell'avversità la tua forza è poca non è proprio un complimento ma è una bella spinta che Dio ci dà proverbi 20 versetto 6 abbiamo letto all'inizio vale la pena ripeterlo molta gente vanta la propria bontà ma un uomo fedele chi lo troverà proghiamo signore davanti a un messaggio così davanti alla domanda se tu ci troverai fedeli noi possiamo solo fare appello alla tua misericordia padre noi non sappiamo nemmeno le sfide che avremo questa settimana contro la nostra diligenza la nostra fedeltà sia a livello spirituale ma anche in pratica nel lavoro nei rapporti familiari ma anche i rapporti più perfetti sono colpiti dagli effetti del peccato signore anche il lavoro più perfetto ha giorni difficili anche il ministero più bello ha delle grandi difficoltà delle grandi sfide e signore per questo motivo abbiamo disperatamente bisogno di te se c'è una cosa che riusciamo a capire che è dura ma che è fattibile perché tu sei con noi signore aiutaci ti prego a essere tra quelli su cui tu e anche le altre persone possono fare affidamento sia in questo anno che fino alla fine delle nostre vite aiutaci a essere fedeli e a correre fino al traguardo della nostra vita spirituale della nostra vita qui su questa terra in nome di Gesù Amen Grazie a tutti Grazie a tutti